Adesso fanno il loro esordio in categoria superiore di Camillo, il ragazzino esce Enrico Caporale autore di una tripletta, è entrato il suo esordio di Camillo, bravo Enrico Adesso si accinge a entrare anche Vinci Guerra Lorenzo E dopo c'è Niccolò Pizzi, ecco c'è Niccolò Pizzi tutto pronto, si è messo la fascia per il sudore è come lo film di Alberto Sordo, l'ha visto già che la fascia per il sudore, ha detto ancora negli Indra Grazie